È stato sgomberato tutto l'ex dormitorio, tutti sacchi a pelo, le coperte sono state portate via già nella mattinata di ieri da ITS Ecologia. Ieri ricordiamo la nostra emittente ha raccontato Maxi Sgombro che ha visto coinvolto 150 migranti che sono stati successivamente trasferiti in Lombardia dopo un iter perché c'è stata la prima fase di identificazione, successivamente la prima visita medica e in seguito l'assistenza. Le condizioni dei migranti erano buone, lo stato di salute era buono, sono stati trovati due migranti con il diabete e uno con una piccola frattura, un dito. Ricordiamo che ieri era sommerso questo piazzale da sacchi a pelo, coperte, vestiti, abbiamo seguito anche lo smaltimento di tutti i rifiuti che stanotte non hanno dormito nell'ex ormai dormitorio in Largo Santos ma si sono trasferiti proprio di fronte a noi. Abbiamo visto due o tre migranti uscire proprio da lì però qui diciamo che la situazione è tutta sotto controllo. Ciò che è accaduto ieri è stato commentato anche da parte dei sindacati di polizia, in particolare il SIULP, attraverso il segretario provinciale Francesco Marino che ha espresso una posizione critica sull'operazione dichiarandosi contrario alla modalità con cui è stata gestita. Purtroppo si è trasformata in una sceneggiata utile solo a una fina propaganda che verrà presto superata dai fatti come è già avvenuto peraltro in passato in analoghi sgomberi, a seguito di analoghi sgomberi. Una situazione che risulta anche assimilabile se vogliamo ai controlli confini. Anche questa operazione ha un costo che pesa enormemente sulla società, quindi sia sui cittadini che sui poliziotti, senza che vi sia un reale tornaconto. Siamo passati da roboanti annunci riguardanti fantomatici hotspot e strutture che avrebbero cancellato questo inaccettabile spaccato di sofferenza e anche questa criticità. E invece abbiamo visto che i fatti sono davanti a noi.